Il 30 di aprile scadrà la gestione della Onlus di volontari Animalia dopo 22 anni a presidio del gattile sanitario di Pesaro o Asifelina. Una scadenza che le volontarie del gattile hanno denunciato con preoccupazione a Rossini TV, palesando l'incertezza su un passaggio di competenze dal comune ad Aspes preannunciato ma mai di fatto formalizzato. È un'incertezza che però si allarga anche al canile e alla prospettiva di un cimitero per animali. Servizi dedicati agli animali d'affezione ingarbugliatisi nella burocrazia come denunciano i consiglieri comunali di centrodestra Andrea Marchionni e Michele Redaelli che hanno protocollato un'interrogazione in consiglio comunale per ricevere risposte dall'amministrazione. Quello che abbiamo fatto è stato intervenire con un'interrogazione perché già a giugno dell'anno scorso l'amministrazione ha dichiarato che alcuni servizi importanti verranno gestiti da Aspes. Questo avrebbe dovuto iniziare dall'inizio di quest'anno. Sono passati già diversi mesi e ancora non si sa nulla rispetto a questi servizi. Sono servizi importanti come il gattile comunale, il canile comunale e anche il cimitero degli animali. Le molte persone che si rivolgono a questi luoghi e anche le associazioni che ad ora operano e gestiscono questi servizi sono in attesa che il comune sblocchi decida innanzitutto e sblocchi tutte le questioni burocratiche per far ripartire questo servizio. D'altronde il servizio funzionava bene, c'erano delle persone molto appassionate che garantivano un ottimo servizio. Il comune ha preso una scelta diversa, adesso bisogna che la attua e si esca da questo limbo in cui le persone e il servizio non si sa che fine dovrà fare. È importante che l'amministrazione scelga subito e poi Aspes di conseguenza agisca in base a quello che l'amministrazione chiede. Grazie a tutti.